Ovviamente il settore agricolo è stato sempre il settore che ha accolto una forte domanda da parte dei lavoratori immigrati, è stato il settore in cui hanno visto la soluzione delle proprie esigenze economiche. Purtroppo è un settore che soffre di una forte discriminazione, un forte sfruttamento da parte dei datori di lavoro. Come federazione abbiamo fatto negli ultimi anni tantissime iniziative. Le iniziative che abbiamo messo in campo hanno almeno portato il paese ad essere all'avanguardia insieme ad altri paesi europei. All'avanguardia per cui alla fine abbiamo oggi una legge che possiamo considerare, una legge che funzioni dal punto di vista della repressione ma manca nella sua attuazione che riguarda la prevenzione. I lavoratori immigrati hanno bisogno di un sostegno, di un'azione che vada oltre alla tutela contrattuale. Le leggi come spesso capita nel nostro paese, soprattutto quando sono leggi repressive, sono necessarie ma non sono sufficienti come vediamo perché il tutto passa solo ed esclusivamente da un elemento, aumentare il livello di occupazione dei nostri territori perché solo con l'aumento dell'occupazione si declina e quindi si comprime il bisogno e il bisogno è quello che poi alla fine porta allo sfruttamento. Se c'è tanto lavoro sicuramente si riesce a recuperare anche in termini di qualità del lavoro e in termini anche di legalità. Il numero noi abbiamo riscontrato negli ultimi due anni perché abbiamo raffrontato il 15 e il 16 abbiamo una manodopera straniera di 1180 unità contro le 894 unità del 2015. È chiaro che sì abbiamo avuto una diminuzione della manodopera complessiva però con un leggero aumento del 31,99 della manodopera straniera. Noi pensiamo che questo dato non sia molto corrispondente al vero perché intorno a noi vediamo parecchia manodopera non regolare. La provincia di Messina ha sicuramente dei territori che vedono tanti lavoratori stranieri che sostengono l'agricoltura specialmente alcune zone specifiche della provincia di Messina quelle del vivaismo, del florovivaismo eccetera sono zone dove ci sono tanti lavoratori ma anche nei comuni più montani molto spesso quelli che erano per esempio i lavori della pastorizia dell'allevamento oggi vengono sostenuti da lavoratori che vengono da paesi stranieri per fare vestieri che oggi i siciliani cercano di non fare più. Anche i figli di Callevatori ormai cercano di avere mansioni diverse che non sono quelle più tradizionali di una volta.